E' stato un 2 giugno speciale per la delegazione Arettina che ha partecipato all'iniziativa Arezzo per Amatrice, organizzata dall'Associazione Cultura Nazionale di Cristiano Romani. Un pranzo solidale con prodotti del territorio aretino che ha visto l'adesione di col diretti, banda piccoli chef, associazione macellaia, associazione sommelier ed altre realtà del nostro territorio. Amatrice, come del resto gli altri comuni del centro Italia colpiti dal terremoto ormai quasi un anno fa, porta ancora i segni pesantissimi di questa sciagura, ma c'è anche tanta voglia di ricominciare e lasciarsi alle spalle gli orrori del terremoto. Oggi, in questo 2 giugno, questa voglia è stata condivisa e rafforzata grazie anche agli aretini, tra i partecipanti anche Piero Franchini e Giuseppe Marconi, quest'ultimo in versione karaoke, che hanno portato al sindaco Pierozzi e alla sua gente una ventata di allegria e solidarietà. In 500 hanno partecipato al pranzo sotto il tendone che accolse gli scollati in quel maledetto agosto. Oggi più che mai Arezzo è con Amatrice e le iniziative a sostegno delle popolazioni terremotate non si fermeranno di certo qui.